Noi abbiamo comunque questa possibilità di stare nel momento presente, che è l'unico momento reale della nostra vita. Quindi anno vecchio, anno nuovo, c'è un solo momento reale, adesso. E noi di questo momento possiamo fare buon uso, cattivo uso, a seconda che lo sprechiamo nella distrazione, oppure lo applichiamo alla vigilanza. Noi abbiamo sempre questa scelta, essere vigili e attenti e presenti, oppure lasciarci retire dal pensiero proliferante, papancia, e quindi regalare all'oblio e quindi in un certo senso alla morte ogni istante che passa. Se ci fate caso, la memoria dipende molto dalla nostra presenza. I ricordi che abbiamo sono ricordi di momenti di presenza mentale, mentre se eravamo distratti tutto passa nell'oblio. Quindi, per fare buon uso del tempo che il caso, la necessità, il destino, quello che volete ci ha concesso, l'unico modo è essere attenti qui. Io penso che con la nostra pratica cominceremmo a dare più valore a questo tempo e acquisiremmo quella cognizione del tempo a cui qualche scrittore dei tempi andati faceva spesso riferimento, che si chiamava di Jack Kerouac, però per lui mi sembrava che fosse più che altro un'invenzione letteraria. La vera cognizione del tempo è la cognizione che il buon uso del tempo dipende dalla nostra attenzione. Se siamo distratti, perdiamo tempo. Lo perdiamo proprio. Non ci ritorna. Il tempo che abbiamo sprecato nella distrazione, che abbiamo sprecato inseguendo pensieri peraltro confusi, instabili. Anche se quelli che riescono a fantasticare rimanendo sul soggetto poi sono destinati a fare i romanzieri, ma gran parte di noi, tutti noi, non siamo capaci di coltivare una storia nella testa con continuità, farci un romanzo o una sceneggiatura o un film. No, no. Perché i nostri pensieri sono instabili, fuggono via, si perdono. E' come cercare di acchiappare farfalle, rimanere a pancia. Anzi, forse è più facile acchiappare le farfalle che i nostri pensieri. Povera bestia. Io l'ho fatto per un po' quando ero molto piccolo, poi mi sono reso conto che non riuscivo a uccidere le farfalle. Quindi le prendevo, poi le lasciamo andare. C'è molto interesse per la meditazione, ma la meditazione è un percorso, è una via vera e propria che implica l'acquisizione progressiva di molte abilità e lo sviluppo anche di molte facoltà mentali. Enrico sa bene a che cosa faccio riferimento, perché questo nostro edificio meditativo che noi cominciamo a mettere in piedi con le prime sessioni di meditazione è in realtà un edificio molto articolato che implica lo sviluppo di numerose qualità mentali. Qualità mentali che in parte possediamo e in parte sorgono solo in dipendenza del lavoro già fatto. Non vorrei essere adesso criptico o misterioso, però noi cominciamo con questo Satipattana. Satipattana è una parola composta e non c'è nemmeno concordia nel dire quali sono i due termini che la compongono. Taluni dicono Satipattana e tanti dicono Satipattana. e comunque le regole della fusione dei nomi, delle crasi in pali è la stessa per tutti e due i modi. Quindi non risolveremo la questione grammaticalmente, risolveremo la questione con la pratica. E allora Bante Punnagi, un monaco secondo me geniale, soprattutto un grande espositore e divulgatore del Dharma, propone, la sua lezione è Satipattana, usando le parole sanscrite. e Satipattana vuol dire attenzione, vigilanza, mente vividamente attenta, upa, Tana è fondata, upa all'interno. Quindi Bante Punnagi traduce Satipattana con introspezione, cioè il Satipattana è una pratica introspettiva, una pratica introspettiva che si articola su quattro livelli di osservazione, su quattro basi che sono oggetto di osservazione, la prima delle quali è il corpo. Pardon, non credo sia il Covid, comunque siete a distanza. Satip, il primo livello, dicevo, è il livello corporale, Kaya Nupassana Satipattana, Satipattana. Ma quando si parla del corpo spesso c'è confusione, perché le persone non riescono a distinguere il Kaya Nupassana Satipattana da successivo Satipattana, che sarebbe Vedana Nupassana Satipattana, ossia la sensazione. Bante Punagi chiarisce bene qual è la differenza tra l'uno e l'altro. Allora, il Kaya Nupassana Satipattana è quello che si chiama proprio eccezione, cioè la capacità del corpo di percepire se stesso nello spazio e nel movimento, e anche di rendersi conto se, per esempio, i muscoli del corpo sono distesi, se la posizione è in un certo modo piuttosto che in un'altra, se è più, è una posizione più rilassata o una posizione più, è veramente la proprio eccezione. Quindi il primo livello è attenzione proprio cettiva, che poi traduciamo con Kaya Nupassana Satipattana, cioè che traduce il termine Pali, Kaya Nupassana Satipattana. La sensazione che è il livello successivo implica un'attenzione alla piacevolezza, sgradevolezza o neutralità, indifferenza o indifferenza delle sensazioni percepite. Allora, al livello di Kaya Nupassana Satipattana c'è semplicemente l'attenzione al corpo, alle sue posizioni e eventualmente alle tensioni e un rilassamento che lo riguarda. Il livello in cui appaiono sensazioni piacevoli, sgradevoli o neutre è detto vi Kaya Nupassana, vedana Nupassana Satipattana, perdono. È il lavoro sulle sensazioni ed è grosso modo identificabile col metodo di meditazione insegnato da Sayajju Vakim, dove si pratica l'osservazione nelle sensazioni piacevoli, sgradevoli o neutre a seconda cercando di non identificarsi con la piacevolezza, la sgradevolezza e senza trascurare le sensazioni che eventualmente non sono così prominenti tali da apparire in primo piano nella nostra percezione. Il terzo livello citta Nupassana Satipattana è attenzione al vissuto emotivo, al centro emozionale e anche qui abbiamo una parola pali controversa nel senso che citta molti traduttori lo traducono con mente in una mia personale ricerca e interrogazione di diversi maestri anche autorevoli d'Oriente io chiedevo dove si colloca questa città e ho ottenuto una sola risposta qui quindi io seguendo anche Bante Punnagi che è uno di questi direi che per la nostra pratica non sto parlando di filologia ma per la nostra pratica è molto funzionale considerare questo citta Nupassana Satipattana come attenzione alle sensazioni alle emotività quindi alle reazioni emotive che subentrano che nella nostra vita insorgono a seconda degli accadimenti citta Nupassana Satipattana mentre il quarto livello Dhamma Nupassana Satipattana si riferisce a qualcosa di più in corporeo e che cosa sono Dhamma Nupassana Satipattana avvengono in Manas cioè nella mente pensante e sono tutti i nostri commenti tutte le nostre acquisizioni teoriche tutte le nostre idee tutte le nostre elucubrazioni che possiamo formulare in dipendenza sempre dell'esperienza che facciamo della realtà allora ovviamente cominciamo dal livello più facile quindi Kaya Nupassana Satipattana è facilmente praticabile anche dai bambini Vedana Nupassana Satipattana pure è abbastanza facilmente praticabile Citta Nupassana Satipattana ossia l'attenzione al centro emotivo in italiano non abbiamo una parola per il centro emotivo potrebbe essere animo ma per la sua assonanza con anima preferirei evitarlo preferisco chiamarlo col suo nome Pa Citta Nupassana Satipattana è l'attenzione alle reazioni emotive che insorgono a seguito della delle esperienze che facciamo nella vita e Dhamma Nupassana Satipattana sono la parte mentale i pensieri i commenti le idee le convinzioni le opinioni che ci formiamo in seguito al nostro incontro con l'esperienza vitale così esposto mi sembra che sia molto organico grazie a Banti Punnagi che mi ha tolto i residui dubbi che potevo avere in questo su questo su questo schema perché in fondo si tratta solamente di uno schema non è così importante la suddivisione quanto è più importante la pratica riconoscendo e l'attenzione a tutto ciò che accade nella nostra interiorità come risposta agli eventi facciamo un esempio sulla proprio cessione abbiamo detto la proprio cessione ossia kaya nupasana Satipattana è l'attenzione al e la consapevolezza del proprio corpo nello spazio nel movimento la proprio cessione è stata riconosciuta dalla scienza dalla scienza poco tempo fa relativamente mi pare che sia negli anni trenta che un ricercatore uno scienziato di cui mi sfugge quasi sempre il nome ricevete un premio Nobel per questi studi capì che cioè lui riuscì a provare che la proprio cessione è un vero e proprio senso non è semplicemente un un sentimento che sorge vagamente così dalla sinergia degli altri sensi no no è un vero e proprio senso autonomo che ha come riferimento una precisa zona del cervello adesso io non sono un neuro chirurgo psichiatra quindi non saprei dirvi esattamente dove però questi studi di questo quest'uomo stabilirono che c'è una precisa zona di riferimento nel cervello cosa che fa di questa proprio cessione un vero e proprio senso che noi potremmo tranquillamente aggiungere agli altri cinque e dire che abbiamo sei sensi non cinque bene in che cosa consiste la proprio cessione la proprio cessione consiste nel avere sentore contezza del delle proprie parti del corpo anche senza doverle guardare noi anche se chiudiamo gli occhi possiamo battere le mani sopra la testa senza dover controllare nulla perché abbiamo questa contezza di dove siano le nostre mani anche se non le guardiamo e così come le mani questo vale per tutte le parti del corpo per i piedi è questo senso che ci consente di muoverci e di muovere il corpo con precisione con agevolmente e senza alcun intoppo direi che per esempio ad Alessandro che è un e Flavio che sono praticanti di Aikido di lungo corso potrei dire è poco la facoltà che consente di fare l'Aikido perché se uno non avesse questa facoltà questi movimenti di tutte le arti marziali e anche non marziali come lo yoga o anche le discipline sportive non potrebbero essere svolte perché le persone che mancano o che hanno inibito per qualche motivo la loro proprio progettione e senso proprio progettivo divengono incapaci di muoversi questo è ben esposto in un libro di Oliver Sachs che oltre ad essere un notevole scienziato era anche un grande scrittore quindi se volete togliervi questa curiosità vi consiglio l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello che è edito da Delphi dove uno delle sono tutti casi è una raccolta di casi clinici e il capitolo che tratta della perdita della proprio ocezione è intitolato La disincarnata e tratta il caso di una donna che non si sa per quale motivo se traumatico o per quale altra ragione aveva completamente perso il senso progettivo quindi che cosa succedeva a questa donna ci vedeva ci sentiva sentiva gli odori sentiva i gusti e il tatto in tutto quanto il corpo se la toccava non sentiva eccetera ma che cosa non riusciva a fare non riusciva a muoversi senza accompagnare il movimento con lo sguardo perciò per muovere la mano doveva guardare la mano e poi accompagnarla sempre con lo sguardo perché se no altrimenti se lasciava questa cosa perdeva il controllo grazie credo ad una lunga riabilitazione cominciò ad acquisire una certa capacità di movimento i sensi si compensano l'un l'altro però rimase invalida per tutta la vita e le persone rimanevano sconcertate vedendola muoversi pensavano che avesse chissà quale tremenda malattia quindi Kaya Nupasana Satipatthana è allenamento di questo senso proprio cettivo ed è il senso che noi esercitiamo nella pratica della meditazione è il primo livello proprio di pratica della meditazione il livello d'approccio l'entry level ma è anche un livello che non abbandoniamo mai neanche quando saremo molto evoluti nel Satipatthana perché tutta quanto il Satipatthana che è la pratica insegnata dal Buddha per motivi divulgativi denominata Vipassana ma Vipassana non è il metodo di una non è il nome di una metodo di meditazione Vipassana è semplicemente un nome che è stato dato per rendere più agevole l'export potremmo dire di questo metodo di meditazione il cui nome in realtà è proprio Satipatthana e i quattro Satipatthana sono veda kaya nupassana Satipatthana quindi osservazione del corpo eccetera eccetera c'è sempre la parola passana che viene dal verbo passati che significa vedere eccetera eccetera quindi non è una cosa diversa dalla Vipassana diciamo che è il il nome sul passaporto della meditazione Vipassana di cui Vipassana è il nickname cioè quello che ce l'ha reso più familiare quindi questi quattro Satipatthana sono l'oggetto della nostra pratica tanto importanti che il Buddha li ricorda sempre soprattutto nei più importanti discorsi ma anche sempre e persino pochi minuti pochi istanti prima di morire ricorda i monaci i Satipatthana numerandoli tutti e quattro quindi la via è questa e sono è la costruzione del nostro edificio meditativo si va comincia con i quattro Satipatthana e di lì non si muove mai perché il corpo in questa pratica meditativa è il fulcro è il campo da coltivare per in cui riuscire a raccogliere tutti i frutti del nostro lavoro meditativo quindi non si va fuori dal corpo questo è importante ricordarlo nella nostra pratica non pratichiamo l'estasi l'estasi ma l'enestasi cioè quindi il riportare l'attenzione a noi e alla nostra realtà corporea perché in fondo come diceva proprio anche il Buddha in questo corpo alto 6 cubiti noi possiamo osservare l'origine del mondo la continuazione del mondo e la fine del mondo il corpo è veramente il centro il l'oggetto della nostra osservazione è la cosa più certa più che abbiamo a disposizione tutto il resto è percepito dal corpo il corpo è in realtà la cosa più vicina alla nostra conoscenza che possiamo trovare nella nostra vita che cos'è la nostra vita? è la vita del nostro corpo e quindi osservando il corpo e osservando il suo il suo funzionamento osservando in che modo le sensazioni influiscono per esempio stimol possono stimolare delle reazioni sento una sensazione vi faccio un esempio nella pratica della meditazione viparsana così come insegnata da Sayaji Uba Khin la pratica consiste nel restare immobili al meglio delle proprie possibilità per non perché si voglia fare i fachiri ma perché l'immobilità consente di osservare le sensazioni che sorgono piacevoli gradevoli o neutre e osservare soprattutto che cambiano è un modo per osservare nello stesso momento le sensazioni e la nostra impulsività che troppo spesso ci porta a reagire giusto appunto impulsivamente a una sensazione sentiamo qualcosa che ci prude nella testa e subito ci grattiamo impulsivamente cioè non c'è consapevolezza mi prude il naso e me lo gratto e non in questo questa impulsività mi impedisce di rendermi conto della temporaneità di questi fenomeni che io posso notare nel corpo a mano a mano che la mia attenzione al corpo mi viene sempre più stabile divengo anche più sensibile e quindi comincio a sentire cose che non sentivo prima perciò nella pratica del Vedana Nupassana Satipatthana c'è questa indicazione di mantenere anche una certa immobilità che non è un'immobilità fine a se stessa per essere austeri e fare la scuola dei fachiri no significa utilizzare l'immobilità per poter osservare come certi fenomeni che noi percepiamo come sensazioni sorgono crescono culminano decrescono e infine svaniscono si tratta di riuscire a osservare tutto il ciclo perché osservando questo ciclo dentro noi stessi possiamo renderci conto che lo stesso ciclo di impermanenta è attivo in qualunque cosa esista in questo universo e poi ci sono gli altri due ovviamente che direi sono stadi più avanzati ma che implicano per forza un buon radicamento sia nel corpo che nelle sensazioni perché noi possiamo avvertire le nostre emozioni se siamo in grado e quindi lavorarci se siamo in grado di stare con le nostre sensazioni evitando l'impulsività quindi siccome un'emozione è un fascio di sensazioni se ci siamo bene esercitati riusciamo anche a esercitare a percepire le emozioni come sensazioni e osservare anche in queste l'impermanenza eccetera eccetera osservare che nascono crescono culminano infine svaniscono senza identificarci in queste sensazioni poiché è l'identificazione che spesso ci fa agire impulsivamente per esempio faccio un esempio molto grosso non certo sottile però un praticante abbastanza evoluto può osservare la propria rabbia senza esprimerla e senza reprimerla e osservare che questa rabbia ha una causa che è stata stimolata da qualcosa che cresce culmina poi decresce e infine svanisce e che quindi non è in genere questo impulso adrenalinico che ci fa reagire impulsivamente e spesso esageratamente rispetto allo stimolo questo riguardo a città non parsena satipattana e poi c'è il livello interpretativo sono i commenti che noi ci facciamo sulle cose sono le idee che ci fabbrichiamo sulle cose le opinioni le convinzioni eccetera mia madre diceva sempre il mercato di Lecco è il migliore del mondo sa un ottimo mercato ma come fai a sapere che è il migliore del mondo se non li hai visti tutti però quest'idea del mercato di Lecco che è il migliore del mondo l'equivalente è nella testa di ciascuno di noi noi ci abbiamo qualcosa che ah sì sì quello lì è il può darsi anche con ragione ho un mio amico musicista che dice Bach è stato il migliore musicista del mondo noi non conosciamo tutta la musica del mondo specialmente non conosciamo la musica orientale però sicuramente Bach è stato un ottimo musicista ma non tutti sono d'accordo perché ci sono subito quelli che dicono no no Beethoven è sicuramente ma quel meglio è meglio questo è meglio l'altro significa semplicemente che a qualcuno piace Bach a qualcuno piace Beethoven e a qualcun altro come me per esempio piace Mozart e quindi cosa fa dei gustibus non est disputandum ma noi proprio sui nostri gusti e sulle nostre opinioni e sulle nostre convinzioni che ci formiamo in maniera fallace per lo più perché non abbiamo sotto mano tutti gli elementi per formarci veramente un'idea adeguata delle cose noi prendiamo partito così poff così come si tiene per l'Inter il Milan o la Juve o Napoli includiamo tutti quanti o la Roma ecco vediamo no tengo per la Roma e va bene tieni pure per la Roma ma renditi conto che non è questa cosa è un è un attaccamento è un attaccamento della mente ad una determinata idea staremo meglio senza attaccamenti mentali di quanto siamo stiamo con gli attaccamenti mentali non lo so diciamo che noi abbiamo bisogno di formarci delle idee perché queste idee ci aiutano anche a sopravvivere nel mondo ma non è detto che alcune idee che ci hanno aiutato per esempio nell'infanzia o nell'adolescenza siano ancora idee valide quando si diventa più si cresce o si diventa anziani perciò notare vedere e osservare l'impermanenza anche di questi oggetti mentali che sono i nostri commenti le nostre fallace argomentative non fallace in sé ma perché è una cosa che era giusta in un determinato momento può non esserla più molti momenti dopo quindi osservare anche l'impermanenza dei nostri giudizi e delle cose che facciamo questo è Dhamma Nupassana Satipatthana è il direi mi sembrerebbe di poter affermare che è il livello decisivo di distacco dalla come si dice molteplicità dalla suggestione del mondo o dell'universo come il nostro professore Giustarini dice che possiamo tradurre il termine loca quindi bene non so se in questa breve prolusione c'erano persone nuove mi è sembrato doveroso accennarvi sono stato in grado di dare un'esauriente presentazione della della nostra attività meditativa del nostro metodo e del nostro percorso credo che però penso sia utile anche dare una ragione dare una motivazione per per la pratica che facciamo cioè la pratica che facciamo se io mi facessi praticare la proprio eccezione così facciamo un po' di proprio eccezione sicuramente male non vi fa ma allora tanto varrebbe che chiamassimo le sedute training autogeno non c'è mica tanta differenza la differenza tra training autogeno e satipatana è che il satipatana è uno strumento liberatorio che tende a farci uscire da tutte le nostre da tutti i nostri diverticoli e nodi esistenziali da tutti i nostri attaccamenti mentre training autogeno ci mette magari guarisce determinate contraddizioni che ci fanno non ci fanno vivere bene in società e dopo di che ci mette in condizioni di stare meglio un pochino meglio e di tirare avanti più agevolmente no il Buddha non intendeva darci strumenti per tirare avanti più agevolmente non per usare una metafora non ci dava il modo di vivere confortevolmente nella trappola la trappola che abbiamo costruito noi stessi ci fornisce fornisce le chiavi per uscire dalla trappola e questa è la differenza tra la psicologia orientale e il Buddha Dharma se questo viene inteso come psicoterapia cosa che è indubbiamente ma è una psicoterapia evolutiva che porta l'uomo dalla sua umanità lo traghetta verso una super umanità che non significa diventare superman ma significa emanciparsi dai suoi stessi legami dai legami che lui stesso ha creato e che continua ad alimentare bene tutto questo viaggio attraverso che comporta poi lo sviluppo di molte facoltà umane solo umane non c'è niente di trascendentale è un viaggio che comincia con la pratica del Satipatana e quindi vi inviterei ora a un po' di pratica sedetevi in una posizione che sia attenta soprattutto relativamente comoda non troppo perché un po' di scomodità è funzionale non si tratta di essere comodi ma di utilizzare una posizione che favorisca l'attenzione scusatemi io qui sono un po' tra cavi e aspetta vado un po' indietro mi faccio un po' di spazio eccoci bene per la posizione di meditazione spesso si danno tantissime indicazioni ma la cosa principale è che la schiena sia ragionevolmente dritta e senza tensioni e cominciamo a utilizzare la propria occezione per renderci conto se vi sono o non vi sono tensioni lungo la schiena lungo la spina dorsale e poi le spalle sono morbide il collo pure collo e morbido anche il collo è importante che sia morbido non teso la testa non deve andare in alto né cadere troppo in basso ma restare più o meno mezza via leggermente inclinata in avanti bene a questo punto possiamo anche chiudere gli occhi e ritirare tutta la nostra attenzione nel corpo riportare la nostra attenzione a sedersi nel corpo così come il corpo è seduto su piano d'appoggio come dicevamo prima non si tratta di portare l'attenzione fuori ma di portarla dentro e non di farla andare su ma di portarla giù quindi si tratta di fare scendere la nostra attenzione la nostra riprendere l'attenzione al nostro corpo attivando così la proprio ocezione al corpo nel corpo dalla cima della testa alle piante dei piedi questa pratica questo esercizio ci aiuta a radicare sempre di più l'attenzione al corpo tenendola nel corpo perché è il luogo più sano nel quale possa stare portando portando l'attenzione al corpo nel corpo portiamo l'attenzione sulla cima della testa sul vertice non importa la precisa localizzazione si tratta molto semplicemente di sentire la cima della testa alleniamo la proprio ocezione in modo da percepire la cima della testa cioè portiamo l'attenzione su questo piccolo area un'area grande all'incirca come una moneta grossa un pochino più dei due euro sulla cima della testa e qualunque cosa sentiamo si tratta di sentirla così come sentiamo qualunque altra parte del corpo allarghiamo ora la proprio ocezione a tutta la parte superiore della testa l'area che comunemente viene coperta da un cappello è detta anche la corona si tratta di allargare la proprio ocezione a tutta quest'area contenendo anche l'area precedente cioè quella del vertice si allarga la proposizione e va a coprire tutta la corona dalla corona a tutto il cuoio capelluto dal cuoio capelluto alla fronte la fronte abbiate cura di eventualmente di distendere i corrugamenti che talvolta incautamente quando vogliamo essere più concentrati tendiamo a corrugare spianiamo la fronte perché il tipo di attenzione che desideriamo sviluppare è un'attenzione senza attenzione quindi se avvertite dei corrugamenti tensioni rigidimenti della fronte consapevolmente lasciate andare queste tensioni liberando le energie congestionate che in questo modo possono decongestionarsi e fluire scivolando giù verso il terreno le tempie gli occhi non si tratta di sentire sensazioni speciali no no semplicemente quello che c'è così com'è non si tratta di attivare sensazioni mirabolanti o speciali e soprattutto mi raccomando non visualizzate le parti so che la tentazione è forte ma se vi sorprendete a visualizzare lasciate perdere e concentratevi sulla propria eccezione la propria eccezione non ha nulla a che vedere con la vista né con l'udito niente di tutto questo è proprio solo sentire il corpo attivare questa percezione interna del corpo che non dipende da nessuno degli altri sensi portiamo l'attenzione ora alle guance al naso alla bocca al mento e a tutta l'area del viso le mascelle sono un altro punto che spesso può divenire critico se pensiamo che si debbano stringere per rendere più efficace la nostra osservazione come dicevo la nostra osservazione è un'osservazione molto rilassata è un'attenzione senza tensione perciò lasciate andare qualsiasi tensione possiate riconoscere nelle mascelle permettendo a queste energie congestionate di decongestionarsi e fluire giù verso il terreno tutto il viso tutto insieme non più le singole parti separatamente ma la proprio eccezione di tutto il viso espandendosi poi sulle orecchie dalle orecchie alla nuca e infine tutta la testa tutta insieme assembliamo in un'unica proprio eccezione tutte le parti che prima avevamo considerato separatamente in un'unica proprio eccezione di tutta la testa tutta insieme dal vertice al mento da un orecchio all'altro dalla nuca alla faccia tutta la testa in un'unica proprio eccezione spostiamo ora l'attenzione al collo tutto il collo si tratta di sentire semplicemente il collo come dicevo senza voler creare cose che non sentiamo portiamo l'attenzione lì e prendiamo atto di quello che c'è così com'è dal collo dal collo portiamo l'attenzione a una spalla scegliete voi quale dalla spalla portiamo l'attenzione a scendere lungo il braccio fino al gomito dal gomito lungo l'avambraccio fino al polso dal polso al dorso della mano al pollice alle dita e infine al palmo della mano dal palmo della mano ora a risalire alle dita al pollice al dorso della mano tutta la mano e a risalire dal polso lungo l'avambraccio fino al gomito dal gomito lungo il braccio fino alla spalla dalla spalla al collo e ora in un'unica proprio eccezione tutto l'arto considerato dalla punta delle dita fino al collo dal collo fino alla punta delle dita tutto insieme di nuovo manteniamo manteniamo l'attenzione sul collo e dal collo portiamo l'attenzione alla spalla quell'altra dalla spalla al braccio al gomito lungo l'avambraccio fino al polso dal polso al dorso della mano al pollice alle dita e infine al palmo della mano e ora dal palmo della mano alle dita al pollice al dorso della mano tutta la mano il polso l'avambraccio fino al gomito dal gomito lungo il braccio fino alla spalla dalla spalla al collo e ora dalla punta delle dita fino al collo e dal collo fino alla punta delle dita tutto l'arto tutto insieme in un unico in un'unica proprio eccezione portiamo l'attenzione al collo alla gola dalla gola facciamo scendere l'attenzione al torso la parte superiore del torso sul davanti il torso il petto lo stomaco e la pancia fino alla vita fino alla cintura il tutto in un'unica proprio cessione dalla gola fino alla cintura alla parte superiore del torso passiamo ora alla parte posteriore del collo e dal collo scendiamo sul trapezio la parte alta della schiena un'area anche questa spesso resa problematica dalla dalle nostre reazioni che ci portano a irrigidirci a causa dello stress indotto dall'esperienza della vita quotidiana quasi come se volessimo difenderci si tratta di una reazione spontanea che avviene in molte persone che però è malsana in quanto non solo non ci proteggiamo da queste supposte minacce ma anche possiamo creare i presupposti per una malattia ossea che si chiama artrosi cervicale perciò se trovate tensioni in quest'area del trapezio consapevolmente lasciate andare queste energie congestionate permettendo loro di fluire e scivolando giù verso il terreno dalla parte superiore della schiena dal trapezio scendiamo sul dorso sulla scapole sulle rene fino alla vita tutta la parte superiore della schiena tutta insieme non preoccupatevi se non percepite chiaramente tutta la schiena è abbastanza comune le persone si aspettano forse di percepire con sensazioni o proprio ocezioni più evidenti in realtà rimanete con la proprio ocezione della schiena che avete senza cercare di migliorarla di state con quel che c'è senza visualizzare mi raccomando dalla vita scendiamo ora sul fianco un fianco a piacere scegliete voi dal fianco alla gluteo l'anatica e poi l'anca dall'anca lungo la parte superiore della gamba fino al ginocchio si tratta di un'ampia area su cui esercitare la proprio ocezione dal ginocchio facciamo scendere l'attenzione lungo la parte inferiore della gamba fino alla caviglia dalla caviglia facciamo scendere l'attenzione sulla parte superiore della gamba della piede scusatemi detto il dorso del piede il dorso del piede l'alluce le dita e infine la pianta del piede tutto il piede e dalla pianta del piede a tutto il piede risaliamo lungo fino alla caviglia lungo la gamba fino alla caviglia dalla caviglia lungo la parte inferiore della gamba fino al ginocchio dal ginocchio lungo la conscia fino all'anca dall'anca al gluteo al fianco alla vita di nuovo dal giro dal giro stavolta scendiamo lungo l'altra gamba cominciando dal fianco al gluteo alla gamba la lanca la parte superiore della gamba il ginocchio dal ginocchio dal ginocchio facciamo scendere l'attenzione lungo la parte inferiore della gamba fino alla caviglia dalla caviglia lungo il dorso del piede collo del piede il dorso del piede l'alluce le dita e infine la pianta del piede tutto il piede dalla pianta del piede tutto il piede risaliamo per la caviglia per la parte inferiore della gamba ginocchio la parte superiore della gamba il gluteo il fianco la vita e ora da entrambe le piante dei piedi risaliamo lungo entrambe le gambe le caviglie le parti inferiori delle gambe le cosce fino al ginocchio poi le cosce le anche i glutei i fianchi e la vita di nuovo tutta la parte inferiore del corpo sotto la vita dalla vita alle punte dei piedi dai punte dei piedi alla vita comprendendo anche la parte inferiore del torso la pelvi l'area genitale e le aperture inferiori tutta la parte inferiore del corpo dalla vita in giù e dai piedi in su in un'unica proprio percezione risaliamo sul torso tutto il torso tutto insieme unendolo alla percezione proprio percezione della schiena tutto il torso fronte e retro tutto insieme dalle mani risaliamo dai polsi lungo l'avambraccio fino ai gomiti dai gomiti alle braccia fino alle spalle dalle spalle al collo entrambi gli arti superiori tutti insieme dal collo alla testa tutta la testa tutta insieme al vertice dal vertice alle piante dei piedi dalle piante dei piedi al vertice tutta il corpo tutto insieme passando per le mani per entrambe le braccia entrambe le gambe il torso fronte e retro tutto il corpo tutto insieme in un'unica proporcezione e trovanci In questo corpo, alto sei cubiti, possiamo osservare l'inizio del mondo, la continuazione del mondo e la fine del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po'. Vi sento uno a uno. Vado nell'ordine che mi ritrovo sullo schermo. Comincio con Ilaria. Ciao a tutti. Ciao Ilaria. Come va? Bene. Un bel po' di ostacoli oggi, stamattina. Però me ne sono accorta, quindi sono contenta. Ho fatto un po' fatica. Sai, gli ostacoli sono occasioni di pratica. Se non ci fossero ostacoli, noi non potremmo pervenire a nessuna realizzazione. Gli ostacoli è vero che ci ostacolano, ma se noi li affrontiamo nella maniera corretta, sono le occasioni che ci consentono di imparare e di andare oltre. Come un'atleta, l'ostacolo lo allena. Perciò vanno presi, wow, c'è un ostacolo. No, no. Bene. Grazie Ilaria. Soltiamo Michela. Eccomi. È andata bene, però sono stata disturbata dal citofono un paio di volte così, però nonostante il dolore sono riuscita a rimanere nel corpo. Bene. Non si tratta di andare oltre, di farne una specie di... non si tratta di soffrire, si tratta di restare nel corpo cercando di non alimentare, disidentificandosi. Cioè, sì, oddio, c'è il dolore, ma resto ugualmente nel corpo. Un trucco potrebbe essere, se ti fa male la pancia portare l'attenzione sulle piante dei piedi, dove non senti dolore e rimani ugualmente nel corpo e così via. Cioè, cercando di evitare la zona critica. Se tu eviti di tenere l'attenzione sulla zona che in quel momento è critica e mantieni tuttavia l'attenzione al corpo, è possibile che le energie congestionate nella posizione critica abbiano più agio di decongestionarsi e cominciare a fluire. Quindi potresti anche star meglio. Ah, bene, grazie. Grazie. Non te lo garantisco però, normalmente può succedere, succede più spesso di quel che si creda. Va bene, Michela. Grazie. Chiudi pure e passiamo a Simonetta e Valerio. Per me è tutto bene, concentrazione, buona concentrazione, tutto a posto, grazie. Grazie Simonetta, Valerio. Una buona meditazione anche per me, Flavio. Grazie, grazie a tutti. È stata molto piena. Ho sentito il corpo pulsante, molto vitale. Bene, ecco, l'unica cosa che raccomanderei, la raccomando sempre, non è un appunto, non è una critica alla tua cosa, ma ricordarsi che sentire il corpo è il primo passo. Il secondo passo è rendersi conto dell'impermanenza di tutti i fenomeni che si osservano nel corpo. Quindi se senti bene il corpo puoi osservare che tutte le cose che senti, le pulsazioni per esempio, sono in permanenza, perché pulsa, pulsa, una pulsazione dopo l'altra. Il corpo respira. Non abbiamo una ragionevole certezza che ogni respiro che osserviamo non sia l'ultimo, ma possiamo sempre pensare che potrebbe essere l'ultimo. Quindi l'attenzione al nostro corpo diviene anche un'attenzione alla fragilità del nostro corpo e alla sua mortalità, ma questo voi lo sapete già perché avete partecipato a un ritiro. Grazie, grazie Valerio. Enrico. Enrico. Sì, ciao Flavio, ciao a tutti. È stato molto bello, anche dopo la tua bella introduzione è stato forse facile meditare bene e ti ringrazio. Ecco, colgo l'occasione per una domanda. Io quando faccio qualsiasi tipo di meditazione ho notato che nel momento in cui si affaccia una distrazione, ritorno facilmente sulla meditazione passando per il respiro. È una cosa che va fuori dalla pratica che ci proponi, va bene. No, no, assolutamente no. Il respiro tu lo senti nel corpo, è sempre l'attenzione al corpo. Sai, questa di questa mattina era proprio molto molto introduttiva, però tu lo sai che immediatamente dopo aver attivato, aver elevato, diciamo, avere allenato la propriocezione del corpo, cominciamo ad allenare la propriocezione del respiro, che è sempre parte della propriocezione del corpo. Va benissimo così, Enrico, non ti preoccupare. Alice. Ciao, è andata bene, ho avuto alcuni momenti un po' di distrazione, però la cosa di cui sono soddisfatta è che ho visualizzato pochissimo, anzi direi quasi niente, e invece c'era proprio la propriocezione, che per me è una difficoltà. Bene, bene, Alice, bene così. Comincia a funzionare sta cosa. E dai, e dai, funziona. Bene. Cristina, eccola. Eccoti qua. Ciao, Cristina. Come va? Tutto bene? Sì, grazie perché sono stata bene, anch'io sono riuscita ad entrare dentro alla sensazione e non alla visualizzazione. Sono stata disturbata anch'io, come diceva qualcun altro, però mi sono resa conto che c'era questo disturbo, perché si è acceso lì il mio cellulare, ma poi sono ritornata, insomma, ho proprio cercato di lasciare, di dire, me ne ho conto dopo. Ottimo, Cristina, ottimo, Cristina. Bene così, grazie. Flavio? Ciao, Flavio, ciao a tutti. È andata bene? È stata un'esperienza stabile sul corpo. In alcune aree ho percepito anche delle micro vibrazioni, però mi sono limitato a stare nel corpo. Sì, sì, ma anche qualunque cosa succeda, perché ovviamente noi portando l'attenzione al corpo cominciamo a sentire anche delle sensazioni. Tra questi quattro satipattana, come ho avuto modo spesso di dire, uso un'immagine un po' che non so quanto sarebbe condivisa dai nostri austeri insegnanti, ma questi quattro satipattana sono come i maccheroni ai quattro formaggi. Cioè, quando mangi un maccherone non senti un formaggio solo, li senti tutti uguali. Se vuoi puoi isolare il sapore del gorgonzola, del taleggio o della fontina o quant'altro, del parmigiano. Però è qualcosa, il satipattana è l'arte di osservare una cosa pur non essendo ignari di tutto il resto. Riusciamo a mettere a fuoco una cosa, riusciamo a mettere a fuoco il particolare, ma senza perdere il quadro d'insieme. Non so se questo può esserti utile. Sì, grazie. Grazie a te, Flavio. Filippo? Ciao a tutti, ciao Flavio. Ciao Filippo, è bello vederti ogni tanto. È andata bene e ho notato subito la differenza rispetto alla meditazione serale. Il mattino sono decisamente più facilitato nella concentrazione. Le difficoltà sono state di portare sempre l'attenzione quando mi distraggo. Devo sempre riportare il cervello sulla pratica. Devo impegnarmi a partecipare di più. Peccato che non sia riusciti a organizzare un ritiro che quest'anno avrei partecipato. Senti, al primo ritiro avremo il pienone, quindi tu ti sei, vai sul sito e prenotati se vuoi. Poi dopo non vuol dire che la prenotazione non vuol dire impegno a partecipare, però almeno ci dà il quadro del numero di persone che vogliono partecipare, che cominciano ad essere tante. e quindi potremmo anche decidere che nel momento in cui aprono invece di uno solo potremmo anche farne due se ci sono richieste. Ottimo, ti ringrazio. Va bene, grazie Filippo. Lo sai dove vai? Vai sul sito? Sì, 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 lo trovo e basta. In genere io poi chiamo tutte le persone che compilano il modulo e dico loro qual è la situazione, che dovrebbero già saperlo. Noi non abbiamo alcuna esenzione, no? Non siamo una zona verde in mezzo al rosso, all'arangelo. Perciò e oltretutto il corso si tiene in Emilia-Romagna, che è arancione quanto noi in questo momento. Ah, è stato cambiato. Prima era in Val Camonica, se non sbaglio. Sì, ma adesso ci siamo spostati più a sud, in Val Trebbia, provincia di Piacenza. Ah, ok, vero. Non è lontanissimo. No, è più vicino della Val Camonica. Sì, sì. Va bene, Filippo. Grazie. Grazie a te, Agostino. È la prima volta che ti vedo, Agostino? Avevo partecipato un po' di mesi fa, qualche volta. Ah no? Poi sì, da un po' di mesi a questa parte è la prima volta. Dimmi com'è andata quest'oggi. Mi sono trovato molto bene sia nella prima parte, sia nella seconda, in più, di pratica. Ah, da prima parte intesa come introduzione. Sì. Grazie. Prego. Penso che sarà, possa essere un'esperienza comune anche ad altre persone, che ho sentito comunque una centratura, consapevolezza, non indifferente anche durante la prima parte. Mentre nella seconda, appunto, dove c'è da provare a fare attenzione nel nostro corpo, anche quella non è andata male. Nel secondo momento finale sono emerse anche delle piccole pulsazioni, insomma, sensazioni. Sì, hai avuto più, hai avuto più, l'attenzione era di più nel corpo. Più teniamo l'attenzione nel corpo, più riusciamo a osservare quello che ci succede. Grazie Agostino. Dunque, ho sette minuti e quasi trenta secondi per ciascuna. Norma, prenditi pure un pochino di più, visto che è la prima volta che partecipi. Ciao. Allora, diciamo che, sì, è la prima volta, ma ho seguito le registrazioni. Diciamo che in diretta emani un'energia sicuramente molto più intensa. Quindi mi è piaciuto poter partecipare in diretta. E' piaciuto anche a noi che tu abbia partecipato. Penso di poter parlare a nome di tutti, insomma. Grazie. Grazie a te, Norma. Quindi la fatica è proprio legata alle distrazioni di pensiero. Quindi, soprattutto nella parte più pratica, la prima parte sono riuscita a restare nel corpo, poi purtroppo manca allenamento. Certo, è così. Chi è che si distrae, Norma? Chi? Chi si distrae? Una domanda a me? Sì, sì, sì. Chi si distrae? Ci sono le distrazioni, ma non è che le distrazioni sono lì in qualche modo che ti ballano intorno. Quello che si distrae chi è? È Norma che si distrae. E tra l'altro io vi dovrei salutare perché sono pronta per andare a lavorare. Va bene. E quindi vi ringrazio. Grazie di aver partecipato. Quanto è la domenica, giusto? C'è questo della domenica, poi ci sono altri due orari. C'è il lunedì alle 21 e il giovedì alle 18.30. Sempre dieci minuti prima, come stavolta. Ma posso partecipare in distanza? Vuoi partecipare quando vuoi? Noi siamo il gruppo più aperto che esista, guarda. Grazie di tutto, buona domenica. Grazie Norma e buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a me, Flavio. Anch'io vi devo lasciare. Bene, ciao Cristina. Cristina, vi ringrazio tutti. Buona domenica. Lunga vita e prosperità a voi. Bene, allora adesso abbiamo Gabriella, Diane. Ciao, ecco, mi cercherò di essere breve. È stato interessante, ho incontrato anche io qualche difficoltà, però ho cercato di stare anche in queste sensazioni un po' scomode. È stata un'esperienza comunque interessante. Devo ancora lavorare, sicuramente. Tutti quanti dobbiamo ancora lavorare, Gabriella. Tutti pensano che le persone magari anche evolute, io ho conosciuto delle persone veramente evolute nella mia vita, cioè a me, tutti pensano, quando si incontrano persone così, uno pensa, sono nati così, no, no, nessuno di loro è nato così. E ci si arriva attraverso un lungo, spesso non facile e reiterato, prolungato impegno. Grazie Gabriella. Grazie. Francesco? Mi sono calato esclusivamente nel presente, ho avvertito questo, in un presente che poi a un certo punto si è dilatato, sino a sentire affievolita la tua voce e poi è ritornata verso la fine. Ho capito, se hai entrato, se hai capito di quale stato mentale, probabilmente stai parlando. Va bene così Francesco, va bene, ottimo. E grazie. Alessandro? Eccoci. Senti, dimmi un po', quello dietro di te è il ritratto del maestro Fujimoto? Sì, 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 è lui. Gli volevo molto bene anch'io, sì. Sì, sì, è poco. Niente, io invece ho grosse difficoltà oggi, ma io ho sempre grosse difficoltà, c'è il mio pensiero, faccio molto fatica a trattenerlo, lo resto parte e comunque poi è un'altra piccola difficoltà, nel senso che io per esempio sono sempre stato abituato a visualizzare facendo il Chinorema, invece qui non, quindi un po' in contrasto, anche lì sono un po'. Guarda, vorrei dirti questa cosa, cioè non ti suoni come una critica a un altro metodo che è il Chinorema, perché quello è un metodo che è fatto così e che ha la sua ragione d'essere nell'essere così. Qui noi utilizziamo quest'altro metodo che esclude la visualizzazione, spero di riuscire a spiegarti perché, ma direi se pratichi il Chinorema, pratichi il Chinorema e se pratichi il Satipatana, pratichi il Satipatana. Cioè due cose diverse che anche se possono avere dei punti di contatto non sono uguali. Tra l'altro lo so abbastanza bene perché io già praticavo Vipassana quando facevo Aikido e mi ero preso conto di queste differenze. Ed è stato utile perché ho capito che ogni metodo, ogni insegnamento, ogni cosa, ha la sua razio e che quindi non bisogna mischiare, ma praticare. Uno come Chinorema, come Chinorema, Vipassana come Vipassana. Ho capito. Per me è stato utile, siccome avevo cominciato che facevo Aikido. Eh sì, 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 certo. Va bene. E poi, beh, una curiosità così da stupidaggine che è venuto in mente. Mi sapevamo parlato prima di pasta e quattro formaggi. Ma tu quando vedi la pasta al sugo con questi baffoni non hai difficoltà? No, ma io c'ho una pomata che li metto, la metto sui baffi e cioè io posso andare a tavola. Eh sì, perché mi è venuto in mente tutto bello per mangiare la pasta al sugo. Sai come, ma pensa se fossi, avessi dei baffi come Friedrich Nietzsche che c'erano. Ah, è appunto, no? Abbiamo uno spazzolino. Anche quello ci dovrebbe essere un metodo, evidentemente. Sì, certo. Scusa, eh, ma è tutto santo. Cristina? Vediamo se... Eccola, almeno l'audio, anche se non ti vedo. No, la vedo. Eccola. Eh, avevo chiuso tutto perché sono in Liguria, c'è un grande vento e la connessione col vento balla. Ah sì, ma cosa sai con Eolo? Più o meno. No, no, perché c'è un... Ah, Eolo, no, 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 la connessione con Wind, ma con la saponetta. Con la saponetta, sì, sì. No, io volevo riallacciarmi invece alla questione che aveva tirato fuori Michela del dolore. Eh, a me oggi mi sono svegliata con un'orticaria pazzesca, quindi con un prurito incredibile. So perché. Comunque. E facendo una cosa banale, ma facendo meditazione, io ho prurito e sparito. Perché non pensavo probabilmente alla parte dove avevo il prurito. E' ritornato dopo. Tutto qui. Bene, mi fa piacere. Sì, non posso stare sempre però in meditazione per non avere il prurito. Ma però potrebbe essere un incentivo, no? Comunque è vero, è sparito. Cioè è proprio immediato. E' ritornato dopo. Bene. Federica. Quindi tutto a posto. Scusa, ciao Cristina. Ciao. Dimmi Federica. Ah, eccomi. Ciao, ciao a tutti. Tu hai tempo eventualmente dopo? Io? Sì, sì, sì. Sì, sì. Va bene, allora ti salto e ne parliamo in coda. Roberto, veloci eh, che siamo già oltre il tempo limite. A tutti la meditazione è andata molto bene, qualche distrazione, però tra virgolette mi sto concentrando più sulle distrazioni che sulla visualizzazione, proprio per rimanere più agganciato al body scan, però tutto bene, grazie. Grazie a te Roberto Enrico. È andata abbastanza bene, avevo un po' di tensioni, però sono riuscito a gestirlo, diciamo. Grazie Flavio. Posso farti una domanda? Tu pratichi continuativamente o pratichi solo quando ci incontriamo? Non lo so, io penso che... No, io tendenzialmente quando faccio fatica da solo, sono un po'... Sì, sì, sì. La domanda ti aiuta. Sì, mi aiuta moltissimo. Grazie Flavio. Grazie. Giuseppe. Sì, ciao. Ciao. Bene, ti ringrazio. La seconda volta che mi collego, mi sono collegato in settimana, vado veloce, perché mi ha colpito che hai letto un paio di pagine di quel libro che stai completando. E per me è già bastato quelle due pagine che mi hanno aperto un'autostrada, perché ti esprimi in questo modo. Stamattina è andata bene, poi mi hai preso un po' l'abbiocco, quello che i filosofi, quelli che sanno parlare bene, dicono che è un po' di torpore, proprio un po' di abbiocco. Si chiama torpore, ti chiama torpore, Giuseppe. Te lo dico anche in pali, Tina Midda. Ecco, me lo scrivo. Senti, a proposito di pali, proprio veloce veloce, ne parlerai la prossima volta. Satipattana, va benissimo. Avevo già un testo davanti, perché mentre parlavo... Sutta, non mi ricordo più cosa... Sutta vuol dire discorso. Vuol dire discorso. Vuol dire discorso. Ah, definizione, ok, discorso. Sutta vuol dire discorso. Viene dall'esposizione di questo insegnamento. Ai tempi del Buddha non c'erano mica i libri, non c'erano mica le stamperie, le biblioteche. Ah, eccoci, eccoci. Sutta vuol dire discorso, vuol dire cosa che è stata udita. Quindi sutta, in pali e l'orecchio. Grazie, eh, comunque. Prego, prego, Giuseppe. Alla prossima. Alla prossima. Renata. Ciao a tutti. Grazie. Preziosa opportunità. Andata bene. Ogni tanto qualche pensiero veniva delicato, ma l'ho fatto sbollazzare via. Grazie, Renata. Grazie. Grazie, cara. Fabio? Ciao, ciao a tutti. E niente, dai. Diciamo che ho avuto un po' di pensieri che mi distraevano, quindi cercavo sempre di riportare l'attenzione alla pratica. Mi rendo conto che sono in questo periodo abbastanza identificato con i pensieri e quindi c'è molto da lavorare, però sono contento di essere qui e di fare un po' di pratica che poi magari durante la settimana cerco anche di estendere agli altri giorni. Coraggio, Fabio. Va bene. C'hai tutto il tempo, cioè fai buon uso del... c'hai tutto il tempo, c'hai la salute, l'intelligenza. Coraggio, Fabio. Grazie, Fabio. Lo farò, grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, Gianandrea, il mio assistente. Dov'è? Questo è entrato... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ciao, Gian. Ciao a tutti. Ciao, Spola. Ve lo devo salutare tutti. Ho visto che c'è qualcuno anche del ritiro. Ciao. Ciao, Gianandrea. Ciao, ciao. Meditazione è andata bene, è sempre col sangha più bello. Puoi fare sempre un bel body scan. Non so, rilasci anche un po' di tutti questi pensieri, queste tensioni, queste volontà, questi desideri che la mente si aggrappa, a cui la mente si aggrappa e quindi si sta bene poi dopo. Bene, grazie a tutti quanti che avete partecipato. Abbiamo recuperato in curda il tempo che abbiamo perso all'inizio. La seduta è durata un'ora e mezzo comunque. Comunque, niente, io devo dire un attaccamento è un attaccamento alla vostra presenza. Cioè, mi siete veramente cari tutti quanti. Ed è come avere una famiglia veramente allargata. E mi fa piacere ovviamente vedervi. Quindi, grazie di essere venuti ancora. Questa volta è della stima implicita che questa partecipazione implica. Grazie, grazie, grazie. Federica, se rimani un attimo. Ecco, rimango, rimango. Grazie a te, Flavio. Va bene. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Buona tutta a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao. Ciao, ciao, Ilanio. Grazie, Fabio. Ciao, grazie a tutti. Chi c'è? Non mi ricordo più, Alessandro. Ah, Fabio, scusa. Sei a me, dici? Sì. Dimmi. Posso chiedere una cosa? Siccome appunto, a parte, ho parlato l'altro giorno con il nostro comune amico Dino Ferrari, mi chiedeva se hai da mandarci una tua foto di 40 anni fa, per vedere se riusciamo a riconoscerti. Sì, sì. Ma tu devi dirgli che io sono quello che si rompeva sempre. Mi sono rotto qui, qualcuno stava facendo giusto appunto nicchio e mi sono rotto queste due. Ah, quel nicchio lì. Lui si ricorda senz'altro, guarda. Non era lui, eh, quello che... Ah, sì, 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 se non era lui, il colpevole. No, il colpevole, che cos'è? Il colpevole che sono le mie ossa fragili. Ok, grazie, ci sentiamo. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Eccoci qua, Federica. Eccoci, ciao, Flavio. Allora, ma oggi devo dirti la verità che, ad un certo punto di vista, per me è andata bene, nel senso che non ho avuto dei pensieri tristi, dei pensieri, addirittura quasi all'opposto ho rischiato di addormentarmi, che per la meditazione non è una cosa buona, però vista la mia circostanza l'ho interpretata come un momento che mi ha portato via questo della meditazione. Quindi, ecco, però mi sono talmente rilassata che ho rischiato di addormentarmi, cosa che non mi capita frequentemente quando medito, quindi a quest'ora soprattutto. Bene, Federica, come va l'elaborazione di questo lutto? Ma, non va bene. Ci vuole tempo. Concediti di avere tempo. Credo che sia... Mi dispiace per le persone, che poi in realtà è uno, è mio marito, che vorrei che non... Perché ovviamente soffra anche lui di questa mia sofferenza, cioè... Certamente. E quindi questo a me mi dispiace molto. Cioè non voglio adesso farmi dei sensi di colpa, che già ne ho avuti tanti per tutta la vita per mia madre, ancora ne ho anche adesso in questo lutto di sensi di colpa per essere andata via, per un sacco di cose di cui mi colpevolizzo. Però mi dispiace di essere in questo modo un po' triste per mio marito, ecco. Vorrei essere più... farmi più forza per lui. Cioè vorrei che lui, non vorrei che lui pensasse di non essere un motivo sufficiente per me per reagire, perché in realtà lo è. È che forse ci vuole tempo, sì. Ci vuole tempo. E poi soprattutto, Federica, non fingere. No, quello non ce la faccio, guarda, non sono molto bravo in quello, devo dire che sono abbastanza... No, per dire, adesso io mi faccio vedere che sono forte. No, no, no. Anche oggi, per esempio, ieri sera a un certo punto ho detto, ho una cara amica di Milano, che forse è l'unica amica milanese che ho, e le ho detto, ma sì dai, vediamoci domani, che facciamo merenda, venite qui, tu e il tuo compagno, venite qua. Poi ieri, mi sera, ero stato talmente male, che io ho detto, guarda, scusami, non ce la faccio, perché non ho voglia di interagire con il mondo esterno. La cosa principale, il consiglio che ti do, poi sai, fanne quello che vuoi, ma è di aver cura di te, soprattutto. Solo tu puoi aver cura di te. Solo tu. Secondo me avere cura di te e uscire, fare in modo che questa cosa a poco a poco si decanti e, come dicono appunto gli ebrei, che il ricordo di tua madre diventi una benedizione anziché una sofferenza, un dolore, è la cosa da farsi. Ci vorrà tempo, ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo perché poi la madre, mamma mia, no? Sì, poi così, senza poter restare vicino fino alla fine, senza poter... Guarda, con la madre ci sono sempre dei sensi di colpa. Ci sono sempre dei sensi di colpa. Io sono stato vicino a mia madre, fortunatamente, non so se state le circostanze, stato vicino a mia madre negli ultimi, tutto il decorso finale di questa sua malattia. Però non sono riuscito a evitare una depressione, a termine. Cioè io nella... Mia madre è morta nel 90, nel 91 ho dovuto fare una terapia anche molto intensiva, ma con la meditazione non mi sembrava di venirne fuori, insomma. Devo lavorarci. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Lavorarci, è quello che abbiamo. La nostra vita è fatta di questo. L'altro giorno mi svegliavo, al mattino sentivo una sorta di disagio e dicevo, normalmente che cosa... Ho detto, ma questo disagio, questa è tucca. Cioè non è che posso sfuggire a questa cosa. Siamo vivi e quindi sperimentiamo disagio, sperimentiamo incertezza, sperimentiamo dolore. La nostra vita è fatta di questo. Poi ci sono degli occasionali flash di felicità, no? Il genere. Se noi ci ascoltiamo e siamo in contatto con noi stessi, ci accorgiamo che sotto sotto c'è sempre questo. come diceva Gadda, questo, l'ellissi del nostro disperato dolore. Vabbè, ci lavorerò un pochino e... Federica, tu sei brava. Hai tutte... Non lo so. No, ma hai tutta la tua... Forse a volte anche troppa introspezione non fa bene, ti dirò Flavio. Fai quello giusto, fai quello giusto. Tieni presente una cosa, che comunque i rischi che riconosci come tali non sono quelli che corri. Non abbiamo bisogno di interpretare troppo. Si tratta di fare la cosa giusta, fare veramente il giusto, la cosa giusta a trovare. Non si tratta di introspezione, si tratta di stare con anche il dolore quando viene. Perché cercare di mandarlo via ritorna, ritorna, ritorna. E poi vivere questa esperienza, che è appunto l'introvvisa del Covid di mia madre, cioè proprio che ha sconvolto la vita, la mia vita, cioè io che sono una persona che ha sempre... Io non ho mai vissuto nel passato, non sono una che guarda indietro, no? Cioè, a fine vedi che anche col mio lavoro, per quanto importante, la RAI, che poi era un ruolo, era un vestito che avevo lasciato andare e sono riuscita proprio a ricominciare. No, no, ci ho mirato molto con la circostanza. Io lascio andare con una grande facilità. Mi hai parlato molto, non te l'ho mai detto, ma ti trovo... Qui, ti devo dire la verità, mi sono resa... Io sono una che più è proiettata, che forse non va bene neanche quello, però nel futuro, cioè guardo sempre, penso sempre avanti, e a volte perdo l'attimo lo stesso. Adesso questa cosa mi ha riportato, questa roba del Covid, proprio con i piedi piantati nell'oggi. Non riesco neanche a... Prima tu hai detto, iscrivetevi al corso, al ritiro, così vedete quanti siamo e poi facciamo un'idea di quanto... Ma questo lo dicevo per me come organizzatore. No, no, certo, però io ho l'idea, che a volte mi fa piacere l'idea di venire al tuo ritiro, però l'idea di mettermi a pensare una cosa... Cioè, io che sono invece una programmatrice... Forse non è il tuo momento, forse non è il tuo momento. Mi ha sconvolto. Quando tu vorrai venire al ritiro sai che... No, quello di sicuro, io voglio venire assolutamente. Devo trovare la forza di pensare a qualcosa che va più in là del minuto presente. in questo momento non ho una cosa che mi dà un orizzonte. Tra l'altro tu hai partecipato al primo ritiro che io facevo dopo 30 anni. Ah, sì? Ritiro tenuto da me, perché ritenevo negli anni 80, penso un po'. Flavio, io apprezzo molto tutto quello che fai, perché anche poi con la gratuità con cui le fai... Dovresti ricordare più spesso del da-dana, perché... Ah, sì, mi dimentico sempre. Eh, appunto, perché questo dice lunga sullo spirito con cui fai le cose. Però ti devo anche dire che quando tu guidi una meditazione non è come quando la guida un tuo allievo o per quanto bravo sia, su tutta un'altra cosa. Ma devono fare esperienza, se no io non voglio lasciare qualcosa. Vorresti lasciare un... Una continuazione. Creare una successione a tutto questo, sì. Poi io glielo dico sempre a questi qui, che poi cambiano, no? Nel corso degli anni si stanno delineando quelli che sono piacenti. Però, come io dico sempre, guardate che io non ho copiato i miei maestri. Forse uno, parzialmente. Ma non tanto copiato nella forma quanto copiato nello spirito. Ma ognuno è quello che è. Però devono impararlo facendolo, insomma. C'era quella... Al primo ritiro c'era una che si chiamava forse Ilaria o... No, una ragazza... Ilaria. E non viene più, non c'è? No, no, c'è ancora questa ragazza anoressica. Ah, sì, sì, sì. Eh, ma lei è... È proprio appesa a un filo. Ma comunque si vede anche in questi webinar. Oggi non c'era. Ah, no, ma non è... Allora forse non era... No, Ilaria me la ricorda era quella anoressica. Sì, sì, quella me la ricordo benissimo. Che era venuta con la mamma all'inizio, forse, i primi... Forse, sì. No, questa che dico io era una tua assistente, non era allora Ilaria. La tua assistente in quel ritiro, il primo... Ah, l'Elisa. Elisa. Elisa. Lei ha avuto un lutto pesante che ha sconvolto la vita, è morto il papà, tra l'altro è morto all'improvviso. È uscito al pomeriggio per andare a giocare a carte al circolo, come faceva tutti i giorni. Si è seduto e mentre questi davano le carte, lui, puff, è morto. Mamma mia. E questa cosa le ha sconvolto la vita perché la famiglia... Lei è figlia unica. Come me, anch'io. C'era anche io, c'era sua mamma che però era molto dipendente dal papà che si è trovata persa e poi c'era questa nonna ammalata ed è stato un lungo travaglio. Lei adesso non ha più tempo perché tra il lavoro che lei lavora per una scuola privata dove la pagano poco ed esigono molto e la nonna che è in una RSA a Cremona, mi sembra, o non so dove, non ha più tempo, non ha tempo neanche per il webinar perché se si mette in casa con la cosa, la madre subito è lì a vedere che cosa fa. La colpevolizza. Tra l'altro lei, Elisa, lei lo dice, quindi non credo di svelare un segreto o di fare qualcosa di non lecito, ma lei ha la sindrome di Asperger. Quindi è una persona assai difficile, cioè che va trattata... Certo, certo. È intelligentissima. Ho presente, conosco un'altra persona che ce l'ha. È intelligentissima e... Molto spesso sono particolarmente intelligenti le persone con questo sindrome, sì. Quindi, però, le voglio molto bene come una figlia, posso dire. Devo dirlo piano perché ce li va a mia figlia. Ah sì. Però davvero lei... Non partecipa alla tua meditazione, tua figlia? No, no, mia figlia ha le sue meditazioni. Ah, ok, vedi come a volte non si è sulle orbe dei scrittori. Nemo por veta in patria. Va bene, Flavio, ti ringrazio tantissimo, è proprio per l'aiuto e il supporto che mi... No, no, Federica, tu lo sai che ti voglio bene e questa cosa non cambia. Grazie. Ciao, cara, ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Eccolo qui termina.